come da manuale stavo usando al millimetro mediante la tapparella la giusta quantità di luce solare per ottenere il selfie perfetto ma un improvviso blocco meccanico la carriera dei fluencer allesto interrotto per immergermi in quella ingrata della giusta tutto o almeno si spera la tapparella è composta da vari componenti più o meno soggetti a rottura se tutto appare integro ma la tapparella è bloccata probabilmente c'è da revisionare che tutte le parti siano al loro posto nel mio caso il perno del rullo ottogonale uscito dal cuscinetto del gancio a muro quindi riposizionato cambiate ed aggiunte alcune vite alla puleggia e sostituita la guida del centino visibilmente usurata tutto è tornato a funzionare come un orologio svizzero ci sono vari modelli di avvolgibili ma il principio di funzionamento è praticamente sempre lo stesso quindi se si ha un po di manualità tempo e voglia darci una occhiata potrebbe portare ad una riparazione anche a costo zero declino ogni responsabilità per eventuali danni a persone animali e cose eventualmente occorsi a chi volesse imitare la procedura illustrata nel video che ha scopo di puro intrattenimento aspetto i vostri commenti e mi piace e le iscrizioni al canale a presto grazie per la visione ciao grazie per la visione grazie per la visione grazie per la visione grazie per la visione A presto. 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 A presto.